Ciao ragazzi, video bomba anche oggi, vi dico un'idea per un cash cow channel bomba, ok la dico qui aperta a tutti, è un cash cow channel che potrei realizzare io, anche se è un mondo a me totalmente avulso, quello del fitness, quindi non sono un grande praticante di fitness, però è una nicchia mostruosa ragazzi, i soldi che girano sul fitness sono maggiori dei soldi che girano nella nicchia business online per esempio, perché uno pensa al business online, si gireranno un sacco di soldi, in realtà nel fitness girano molti più soldi, potete fare molti più soldi, ovviamente se siete esperti, ok, io vi invito a approfittarne, se siete anche lavorati in questo settore, vi invito a mettervi online. Se vuoi approfondire l'argomento di questo video ti ricordo che in descrizione c'è il link al mio corso gratuito di un'ora dove ti parlo della mia esperienza e ti spiego come io riesco a fare più di 3.000 euro al mese in organico con i prodotti digitali, più un canale YouTube, più il blog, clicca in descrizione, c'è il link oppure vai su corsogradis.michelemaralino.com dove c'è un corso più approfondito di un'ora dove ti faccio vedere come io nella nicchia musica con il mio canale YouTube Michele Maralino Musica e i miei prodotti digitali e le mie consulenze riesco a guadagnare online con una mia competenza in una nicchia specifica che poi è il modo migliore, più serio per guadagnare online, forse l'unico modo, vendere le tue competenze, vendere prodotti digitali e vai in descrizione e corsogratis.michelemaralino.com se vuoi approfondire e anche tu vuoi imparare come fare più 3.000 euro al mese in organico, senza pubblicità, senza spendere soldi, in organico con un canale YouTube o una pagina Instagram o un canale TikTok con il social che preferisci il mio preferito è YouTube ma si può applicare con qualsiasi social più un blog, più i prodotti digitali e c'è un'offerta alla fine di quel corso molto interessante dove hai tutta la mia formazione se vuoi ancora ulteriormente approfondire e imparare passo passo come creare un sito internet che vende prodotti digitali, come creare un blog, come creare un canale YouTube che ti fa guadagnare dalle affiliazioni, dalla vendita dei tuoi prodotti, dalle collaborazioni, dalle sponsor un mondo pazzesco e ti posso aiutare a seguire da vicino ma parti dal corsogratis.michelemaralino.com vai in descrizione e scarica il corso gratuito di un'ora e adesso torniamo al video per tutti quelli ragazzi che vogliono essere seguiti da me vi ricordo Mara Cash il mio programma che vi aiuta e in cui io vi aiuto a lanciare il vostro canale YouTube o che ci mettete la faccia o che sia un cash cow channel andate su cash.michelemaralino.com e guardate un po' quello che posso fare per voi vi aiuto con consulenze dove decidiamo insieme io vi analizzo, analizzo la vostra situazione, le vostre passioni e cerco di capire la miglior nicchia ok come diciamo in quale settore è meglio per voi creare video, qui video fare, come farli, come monetizzare non soltanto la monetizzazione di YouTube ma anche le affiliazioni, la vendita dei prodotti facciamo tutta un'analisi insieme, una strategia nelle due ore di consulenza poi c'è un video corso pratico sulle questioni tecniche anche sul SEO, come fare i video, come scriverli come fare la descrizione correttamente, come si mettono gli hashtag, come scalare un canale YouTube come anche creare video con intelligenza artificiale cioè ci sono lezioni pratiche così noi nella consulenza ci focalizziamo soltanto nella strategia e poi ci sono quattro video pronti l'abbiamo lanciato ad un prezzo stracciato, ora il prezzo è un po' aumentato ma è ancora un prezzo ridicolo quindi approfittatene perché poi il prezzo aumenta ancora cash.michelemaralino.com vi posso aiutare come ho fatto con questo canale YouTube Michele Maralino Business a portarlo da zero a 10.000 euro di fatturato in 15 mesi partendo da zero in una nicchia completamente in cui non avevo mai messo i piedi e non soltanto questi 10.000 euro vengono dalla monetizzazione ma vengono da tutto tutte le opportunità che YouTube ha con sé di monetizzazione potete sfruttare le affiliazioni, vendere i vostri prodotti, fare delle partnership, promozioni analizzo tutto e vi aiuto in questo risultato a lanciare il vostro canale YouTube quindi cash.michelemarino.com se anche voi volete un'entrata extra oppure abbandonare il lavoro opprimente che avete o che vi opprime o che non vi opprime un lavoro dipendente è limitante se volete ritornare ad essere padroni della vostra vita cash.michelemarino.com YouTube è una grande opportunità ma fatela con la testa con una persona che vi segue e che ha già esperienza e che vi dice questo va bene, questo non va bene e che cerca, io vado, io scaverò dentro di voi perché YouTube è una partita sul lungo periodo quindi devo trovare, devo scavare dentro di voi e trovare quell'argomento che voi potete gestire sul lungo termine potete lavorare sotto sforzo, sotto pressione quindi un minimo vi deve piacere ma io devo anche valutare anche il lato economico quindi deve essere anche monetizzabile fino a un certo punto mettere sul piatto tutto e consegnarvi per voi il miglior canale YouTube che possa durare nel tempo che voi non abbandonate e che soprattutto vi faccia monetizzare ma che dovete arrivare voi alla monetizzazione e lasciando perdere tutta quella fuffa che c'è in giro canali monetizzati che abbiamo già visto in questo canale fatevi seguire da me cash.michelemarino.com oggi vi do questo consiglio ovviamente per altri consigli più specifici per la vostra situazione sapete cosa dovete fare cash.michelemarino.com però fitness è pazzesco allora per esempio ho visto su Fiverr ci sono delle persone che creerò un video di allenamento fitness ora sì qui sono un po' costosi diciamo un video di 3 minuti 65 euro però c'è una bella una bella ragazza ok e quindi potrebbe essere interessante quindi controllate io ho scritto workout video e vedete c'è tanta gente che vi fa realizzere un video di esercizi di allenamento quindi potreste far realizzare questi video ora ci sono diciamo costi per tutte le tasche costi per tutto cioè ci sono prezzi mi occuperò di editing video professionale di fitness 25 euro creerò video di esercizi di allenamento a partire da 25 euro 25 euro a video voglio dire comunque c'è una persona un essere umano e voi non dovete fare niente dovete solo chiedergli praticamente di fare video ora il mio consiglio è andate verticali siccome sì è una bella nicchia lucrosa ma ci sarà concorrenza quindi magari se volete aprire un canale youtube io vi consiglio aprite che ne so un canale specifico per perdere la pancia no? pancia addio potrebbe essere no? quindi su CiaGPT crea una serie di esercizi da mostrare esercizi fisici fisici per perdere la pancia da mostrare in un video youtube ok? quindi voi aprite il canale pancia addio oppure spalle da gladiatore capito? andate verticali su fitness fitness è la macro nicchia però voi andate verticali specializzatevi in qualcosa sugli addominali sulle gambe ora non so non faccio sport faccio tante passeggiate credo che ho avuto un periodo in cui mi svegliavo alle 5 che voglio ripristinare e andavo a camminare non mi piace neanche correre camminavo 2-3 ore al giorno e questa cosa mi ha salvato mi mantiene ancora in vita perché mi piace mangiare forse non so se ve l'ho mai detto in realtà dovrei aprire il canale Michele Maraglino cucina dove mangio ho anche un video che ho registrato in cui mangio una puccia avevo detto che l'avrei fatto al raggiungimento di 10.000 iscritti questo canale è arrivato a 10.000 iscritti lo apro o non lo apro fatemi sapere nei commenti ecco qua ecco una serie di esercizi fisici che puoi includere in un video youtube e lui mi fa tutti poi scrivi il testo di questo video spero che abbia capito che c'è un errore ecco vi fa anche lo script del video quindi voi non volete spendere soldi partite da zero potreste fare conflitti.ai per esempio anche se io vi consiglio utilizzate io vi consiglio di investire sul sul budget e vi dico anche che se prendete Marrakesh versione premium e volete fare una cosa del genere dove ci sono 4 video inclusi 4 video inclusi con l'essere umano che vi fa sono inclusi ve li metto io veramente cash.michelemaranino.com quindi se volete anche per tutti quelli che vogliono fare una cosa del genere abbiamo già l'idea l'abbiamo vista qui pubblicamente ma magari prendete il pacchetto facciamo le consulenze e capiamo bene se ci sono le possibilità aprite un canale del genere e avete 4 video inclusi pazzesco quindi prendete questo test lo date a Flicky questi tool di intelligenza artificiale Flicky.ai lumen5 io utilizzo ma Flicky.ai è il migliore 88 dollari vi lascio il corso completo ancora quante idee gratis dovete ringraziare chi entra chi paga Marrakesh che mi permette di avere contenuti gratis comunque io vi ringrazio sia che guardate i video sia che comprate vi ringrazio sempre siete in tanti grazie stiamo crescendo tanto allora anche economicamente io vi ringrazio allora quindi vi metto il video il corso su come creare un cash cow channel con 3 intelligenze artificiali a costo zero il corso è gratuito 1 ora e 20 ve lo metto qui nelle schede comunque lo trovate nella playlist corsi completi gratis che trovate in home page a questo canale guardatevi lì ci sono tutta una marea di business che potreste aprire poi voi lo sapete che il mio preferito è youtube quindi far fare tutta questa serie di video anche solo col testo e conflitti.ai potrebbe essere un'idea altrimenti vi consiglio essere umano che vi fa gli esercizi magari lo contattate per esempio magari prendete una bella ragazza tipo a questa no? gli dici lena senti ho capito che costa io voglio un video di dieci minuti ora non mi puoi fare un video di dieci minuti 249 euro io te ne ordino ecco più ne ordinati te ne ordino 15 in un mese fammeli 100 euro l'uno o una spesa di mili trattate sul prezzo poi ovviamente dipende dal budget però c'è anche chi magari questo che gli fa 25 euro crea un video di allenamento è un uomo diciamo 30 video demo ah no di 10-30 secondi ciascuno andrebbe bene per gli short no questo fa video di 30 secondi comunque workout video guardatevi un po' tutto quello che addirittura potrà c'è chi fa questi diciamo video di animazione 3D in qualità 4K 5 video di animazione di allenamento di qualità maschio o femmina ecco con questi risparmiate un botto 10 video 10 euro no mi sento male 1200 video di animazione no vabbè lo apro io il cash cow channel mi compro 1200 video di animazione di allenamento e 4K maschio o femmina design personaggi da dei righi movimenti dettagliati di due personaggi quindi ah beh 15 secondi di durata però potreste aprire un canale con gli short però poi ovviamente abbinateci con un prodotto da vendere a questo punto si potrebbe creare anche un prodotto digitale una guida con CiaGPT e venderla nella descrizione dei video o nel canale ok quindi quindi suggeriscimi suggeriscimi 10 idee per un prodotto digitale tema fitness vedete in fitness CiaGPT vi aiuta in tutto anche per trovare idee su che cosa vendere quindi sia che usate esseri umani sia che usate diciamo le animazioni su Fiverr guardate cercate può essere un grande canale YouTube c'è tanto interesse nel tema fitness sia che utilizzate semplicemente il solido metodo flicchi.ai per esempio quindi fate scrivere il testo a CiaGPT che diciamo è un po' se dovete farlo fatelo per bene metteteci una bella ragazza che fa l'allenamento e parlateci contattate la su Fiverr ragazzi iscrivetevi al canale questo è un veramente una bomba di video di suggerimento vi ho dato proprio concretamente delle idee per creare un canale su un tema molto lucroso anche potete crearci dei diciamo dei prodotti digitali da vendere banalmente un libro una guida tra community fitness ovviamente se voi siete nel settore cosa state aspettando e ancora non vi siete messi online state lasciando sul tavolo un sacco di soldi quindi commentate questo video per supportare ho dato tanto valore iscrivetevi al canale commentate Miki quanto valore ok io vi ringrazio quando commentate questa era l'idea di oggi abbiamo visto sia la nicchia sia come fare i video come fare i video investendoci ma ottenendo ovviamente video di 10 minuti con una bella ragazza con anche un uomo che fa gli esercizi che li fa vedere bene voi potreste comunque dare gli esercizi anche o diciamo chiedere a lui di fare gli esercizi oppure darli voi trovando i vari esercizi coach a GPT il consiglio è di andare verticali su un aspetto singolo del fitness fare un canale che è esperto di che ne so bicipidi quantomeno o di corsa o di esercizi aerobici che ne so quella cardio non lo so tutte queste robe qua ok se siete nell'ambiente è meglio però potete da zero creare un canale youtube monetizzare vendere i vostri prodotti digitali fare affiliazione nel mondo del fitness tutti i prodotti che potete fare è incredibile andate su amazon prendete delle panche che ne so potete mettere libri esercizi libri di esercizi oppure anche strumenti che la gente si fa la palestra in casa potreste aprire un canale specializzato di palestra in casa e metterle affiliazioni veramente non ci sono limiti se volete fare sul serio ovviamente vi chiedo cioè vi consiglio di farvi seguire e di fare le cose per bene magari da me cash.michelemarino.com il prezzo salirà molto presto come è già salito quindi se volete entrare entrate subito oggi vi ho dato tantissimo valore grandi idee fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di quest'idea e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao